Ma sembra quasi di vergogni di ciò che sei In che senso, nonna? Cosa intendi? Cosa sono? Ma ovvio, Sam, tu sei come me Puoi chiamarti come vuoi Mago, stregone, curatore Boh, scegli tu Tanto una parola o l'altra non cambierà la tua vera natura Pareva arrivare dal passato O dal set televisivo del telefilm Beverly Hills Con un tipico appigliamento anni 90 Jeans a vita alt, t-shirt bianco e camicione a quadrette Quanto è bello il mio nipotino Se avessi messo la t-shirt all'interno dei pantaloni Saresti stato proprio identico a tuo papà a 13 anni Nonna, la maglietta dentro i pantaloni è da Nambi Nambi? Che? Vabbè Questo video è stato sponsorizzato dalla scrittrice Sara Fossano Che tra l'altro è anche una mia amica che conosco da ben 3 anni Ciao Buonasera a tutti Buonasera a tutti Bentrovati Spero stiate tutti bene Ragazzi Il video di questa sera È un video sponsorizzato Da una scrittrice che io reputo bravissima E che è anche mia amica Si chiama Sara Fossano Sarà un video dedicato un po' alla lettura Perché lei mi ha gentilmente inviato i suoi libri Sara è una bravissima scrittrice Con l'occasione per ringraziarla Per le opere che mi ha mandato Perché sono dei libri veramente stupendi Io ancora non li ho iniziati a leggere Ma ho letto un po' la trama Sono dei libri Per bambini e adolescenti Che fanno riflettere sia i bambini Che i genitori Naturalmente So già Che tanti tanti di voi Sono interessati a questo genere di cose Perché Tanti di voi che mi seguono Sono mamme E hanno dei bambini piccoli O che si affacciano all'età dell'adolescenza E probabilmente Verranno colpiti Da questo tipo di libri Che Sara scrive Perciò vi invito a dare un'occhiata in infobox Perché lì vi metterò tutti i contatti Il link su dove poter acquistare i libri In questo caso da Amazon E appunto Se siete interessati anche i titoli dei libri Allora Vi voglio far vedere Questi Mi ha gentilmente Inviato Tre libri Oggi Andremo a leggerne Un po' Andremo a leggerne uno Chiaramente Non tutto Poi mi dovrete anche far sapere Se a voi piace La lettura Quindi piace sentire video interamente In whispering Quindi se vi piace sentire Video interamente In whispering Scusate ragazzi Però Qui c'è il cane che appaia Io non posso fare molto E a qualche volta Capiterà che sentiremo L'abbaio nel video Purtroppo Non possiamo fare nulla Quindi anche loro Hanno diritto di Parlare Ecco i cani Allora Il primo libro Che mi ha inviato Che mi ha inviato È Il segreto Di Anna Eccolo qui Ve lo faccio vedere più Da vicino Il segreto Di Anna Ragazzi Libro che ho cominciato a leggere In live Su Twitch Veramente Molto bello Lei Tratta Storie Fantastiche Ma che allo stesso tempo Si avvicinano A quella che è la realtà Di tanti Bambini Poi Sam È il Multibosco Sotto Sopra Che bella Copertina Ragazzi Ovviamente Dentro È anche Illustrato Qui c'è il titolo Appunto Di Sara Scusate C'è il nome Qui Di Sara Il nome Dell'autrice Appunto Sara Fasciani Sono dei libri C'è anche Una delica Che mi ho fatto Per Maria Giovanna Che la magia Sia sempre con te Con magico amore Sara Fasciani Grazie Sara Sono anche Illustrato Come stavo dicendo Sono veramente Curati Bene E poi Il terzo libro Che mi ha inviato È Creature Mitologiche Il miglior libro Per imparare Sviluppando La fantasia Che io ragazzi Vi consiglio Veramente Di acquistare Oggi Che appunto Voglio Voglio Dedicarmi Un po' Alla lettura Considerato Appunto Il contesto Di libri Che parliamo Voglio Leggervi Questo qui Mi attira Oggi Leggere Questo qua Sam Sam È Il multibosco La trama dice Sam Ha 13 anni E sta Attraversando Un periodo Difficile In cui scopre Che i suoi amici Gli parlano Alle spalle Si confida Con la persona A cui È maggiormente Legato Sua nonna Che racconta Spesso Della loro Appartenenza Ad un'antica Famiglia Di maghi Altri due Personaggi Si fanno Strada Amy Che fa Di tutto Per restare Nell'ombra E Jack Con la sua Rabbia Credo Che i protagonisti Siano proprio Loro tre Amy Sam E Jack Ignali Di tutto Si sviluppa Un intreccio Che induce Ragazzi Ad un'avventura Fantastica E mi osserva Sam Fultivamente Jack controlla Lei di nascosto Maggio che Nessuno di loro Sospetta E che qualcuno Osserva Tutti loro Di nascosto Aspettando Il momento giusto Per agire I protagonisti Attraverseranno Voltici Multidimensionali Affronteranno Missioni Impensabili Immergendosi Nelle fiabe Dei fratelli Grimm E comprenderanno Che grazie Alla collaborazione Tutta realizzabile I protagonisti Il racconto È una magica Avventura Vissuta Da ragazzi Che si Auto E marginano Per via Delle loro Dodi speciali Ma che scopriranno Non essere difetti Bensì I loro punti Di forza Accettandosi Come sono Trasformeranno Le loro peculiarità Nel loro potere Rescoprendo Il vero io E il significato Di amicizia Sincero Bene ragazzi Allora Direi di cominciare Proprio A leggerlo Questo libro Rinnovo ancora I miei ringraziamenti A Sara E invito tutti voi A vedere I libri Li trovate appunto Su Amazon A guardare Dare un'occhiata I libri Che lei ha realizzato Ovviamente Vi lascio tutto In descrizione Come vi dicevo prima Iniziamo a leggere Allora Il libro Inizia così Dedicato A tutti i sognatori A chi ha fiducia In se stesso E chi invece Deve ancora trovare La strada giusta Vi auguro Con tutto il cuore Che la vita Vi doni Persone In grado Di farvi sentire Sempre amati Finché capirete Da soli Il vostro immenso Valore Ognuno di voi È unico E speciale Un ringraziamento Speciale A Davide E Andrea I miei ispiratori Motivatori E giudici Davide e Andrea Sono i figli Di Sara Sono i suoi Figli gemelli Tra l'altro Sara ha anche Un canale Youtube Lazza Family Vi linkerò Anche il nome Del canale Iniziamo a leggere Ok partiamo Corriamo Forza Il portale Sta per chiudersi E sarà Tutto finito Urlo a Sam Più forte Che poteva Implorando Al suo corpo Di utilizzare Tutta la potenza Che possedeva Respiro Veloce Affanno Concentrazione Al massimo Sguardo fisso Sulla soglia Luminosa Nella testa Di Sam E cheggiavano Grida Disperate Il solo Desiderio Di tornare Nella sua Adorata Casa Ma non era Solo Sam Non l'avrebbe Mai Immaginato Ma il legame Che era Cresciuto Tra lui E i suoi Amici Era oltre Ogni Aspettativa E il Sol pensiero Che a un dono Di loro Potesse Che a uno Di loro Potesse accadere Qualcosa Di terribile Li procurava Un dolore Perfino Fisico O tutti O nessuno Non erano Grida Quelli di Sam Avevano Più potere E intensità Di semplici parole Si voltò E le sue Mani Afferrarono Quelle Dei suoi Amici Con un gesto Sicuro E violento Con la potenza Che solo il vero Amore Può dare La luce davanti A loro Dinanzi agli occhi Sgranati Il loro futuro La storia La fantasia Alle spalle Capitolo 1 Sam Sam giocava All'aperto Con un sassolino Lo lanciava In alto E poi Lo riprendeva Appoggiato Al muretto Che divideva Casa sua Dalla strada Osservava Delle ortiche Che avevano Avuto La forza Grazie Alle prime Piogge Di fine estate Di crescere Bucando il cemento E fu Inevitabile Per Sam Pensare A quanto La natura Trovi Sempre La via Per rinascere Distolse L'attenzione Dai suoi pensieri Quando vide passare I suoi compagni Erano Peter Adam Dave E Paul Tutti e quattro Con le loro Belle biciclette Sam Avrebbe lasciato Qualsiasi cosa Stesse facendo Pur di prendere Il suo skate E rincorrerli Ma questa volta Non lo fece Lo trattenne Un dolore Allo stomaco Cosa poteva essere Si domandò Fra se Immaginò Un neurone Tutto azzurro Come quello Del suo cartone Animato Preferito Che portava La risposta Al suo cervello E Come un computer Analizzava La situazione Con una lista Di controllo Cattiva digestione Gran po' Per la fame Mi sento Offeso Non lo so Ed ecco che Dinanzi all'opzione Mi sento offeso Il neurone Nella sua testa Depositava L'informazione Al cervello Soddisfatto Per aver trovato La risposta Esatta Capitolo 2 Qualche giorno Prima Ciao nonna Come stai? Domandò Sam Vargando L'ingresso Di casa Nonna Ehi ci sei La porta era aperta Nonna Nella grande abitazione Di legno Della signora Marty Nessuna traccia Sam guardò nel retro Sali le scale Per guardare Nelle camere Da letto Scese Nuovamente Al piano inferiore Riguardo Nell'enorme cucina E nella sala Invasa Da centinaia Di specie Diverse Di piante Ma nulla Iniziò a preoccuparsi E a sentire Il battito Del suo cuore Accelerare Possibile che la nonna Fosse uscita Lasciando la porta Di casa aperta Tornò All'ingresso E uscì Nel portico Dove aveva posizionato La sua bici Al sicuro Da possibili ladri All'improvviso Spucò Nascosta Da un'enorme Pianta Di lavanda La signora Marty Che con uno Sguardo di terrore Strillò così forte Da lesionare Quasi I timpani Di sé Urlò la nonna Poi si piegò Sulle ginocchia Con una mano Sopra il suo enorme Cappello Da giardinaggio E scoppiò In una contagiosa risata Sam la seguì Ma si sentiva Ancora Frastornato Dallo spavento Ma cosa facevi Chinata là dietro Non sentivi Che ti chiamavo La nonna Si tolse Le cuffiette Nascoste Nelle orecchie E ancora Fra le risate Rispose al nipote Ciao Sam Non ti ho proprio sentito Arrivare Scusa Ascoltavo Della musica Ed ero concentrata Nello spostare La lavanda Ho tantissime piantine Da sistemare In giardino Meno male Che sei arrivato Così potrai aiutarmi Nonna Sono solo passata A salutarti Poi sono ancora Vestito bene Arrivo adesso Da scuola Sam Non far storie Vai su in camera Tua E cambiati Ci sono Un sacco Di vestiti Nell'armadio Su forza Ti aspetto Sam Non era molto convinto Ma sapeva Che dalla nonna Difficilmente Si riusciva a scappare Poi la verità Era che Voleva passare Del tempo Con lei E raccontarle Ciò che Gli era accaduto A scuola Va bene Nonna Però Tu sai perfettamente Che questa Non è la mia camera E quella di papà E i vestiti Nell'armadio Sono i suoi Di quando era ragazzo Non i miei Perché dici sempre Che è la mia Uff Quante storie Dai vai su Vai cambiati Che ti aspetto Ti vanno un sacco Di vestiti Quindi sono diventati Anche tuoi Era totalmente Inutile Controbattere Tanto la nonna Doveva sempre Avere l'ultima parola Dopo cinque minuti Uscì dalla porta Di casa Un Sam Diverso Pareva arrivare Dal passato O dal set Televisivo Del telefilm Beverly Hills Con un tipico Appegliamento Anni 90 Jeans a vita Alt T-shirt Bianca E camicione A quadrette Quanto è bello Il mio nipotino Se avessi messo La t-shirt All'interno Dei pantaloni Saresti stato Proprio identico A tuo papà A 13 anni Nonna La maglietta Dentro i pantaloni E da nabbi Nabbi Che Va bene Allora Sam Abbiamo 10 piantine Di strozza lupo Da sistemare Ma non le metterei Tutte vicine Le alternerei Alla verbena Che ne dici O sistemiamo Tutta la verbena Alla destra Della scaletta Del portico E tutti gli strozza lupi A sinistra Nonna scusa Ma cosa cambia Alla fine Nulla E' più un discorso estetico Tanto il loro compito Lo svolgono Sia tutte vicine Sia alternate fra loro E cioè Tengono lontane Le maledette zanzare Ma no Sam Non ricordi più Lo strozza lupo Ovvero L'aconito napello Tiene lontano I licantropi Mentre la verbena I vampiri Con tanta protezione Non potranno Minimamente avvicinarsi Alla casa Nel frattempo La nonna Si era alzata Per prendere Del concime Che teneva In un sacchetto Nel capanno Nonna Ma davvero Credi a queste cose? Sei seria? Disse Sam Mentre si accingeva Ad allusare Lo strozza lupo Ricorda Sam Che l'aconito E' talmente Velenoso E altamente Velenoso Anche per noi umani Disse la nonna Mentre camminava Di schiena Il nipote In direzione Del ricovero Per gli attrezzi Sam spostò Velocemente Il fiore Dal suo naso E andò Frettolosamente A lavarsi Mani e facce Dopo poco Sam tornò E si avvicinò Alla nonna Che guardò Con occhi dolci Il suo nipotino Con un bellissimo Arrossamento Sotto il naso Vieni accanto a me E mettiamo Un po' di olio Alla camomilla Che ho preparato ieri Sam Io non ho mai visto Vampiri alicantorbi Ma i miei nonni Hanno sempre coltivato Queste piante Per difendersi E tempo prima Le piantava La mia bisnonna Non so Quando tutto Ebbe inizio Ma so Che se non fosse Stato per loro Io non saprei Tutte le cose Che so Sulle piante E su come Curare Le persone Poi Poi massaggiando L'unguento Sulla delicata Pelle chiara Del nipote Osservò Con fiorezza Sam E tu sai Tantissime cose Ti ho insegnato Quasi tutto Fin da quando eri piccolo Ma sembra Quasi di vergogna Di ciò che sei In che senso Nonna Cosa intendi Cosa sono Ma ovvio Tu sei come me Puoi chiamarti Come vuoi Mago Stregone Curatore Boh Scegli tu Tanto una parola O l'altra Non cambierà La tua vera natura Nonna ti prego Basta con queste storie Poi abbassò il tono Della voce E guardandosi intorno Proseguì Non dire Tutte questa assurdità Qualcuno potrebbe Sentirti E pensare Che hai qualche Rotella fuori posto Ma nonna Non è che sei davvero Spostata Ehi giovanotto Modera i termini Ascolta un po' Se dico tarassaco Cosa ti viene in mente E lui risponde Dente di leone Dichiarò Sam In automatismo E se dico rumex Acetosa Ma allora nonna Acetosa Ma allora nonna Non significa nulla Implorò Sam Silenzio Laurus Nobilis Alloro Sì L'alloro Nonna Uso la foglia Per la sua funzione Digestiva balsamica Per le vie respiratorie Davvero con questo Cosa vuoi dimostrare? Voglio solo ricordarti Nipotino Chi sei? Sei un Martin E hai un dono La natura ti amica E ti permette Di essere usata Si fida Sa Che non la utilizzerai Mai per il male Ma solo per curare Difenderti come faccio io Dai vampiri Dai lupi mannari E dalle fatine dispettose Oh non sopporto proprio le fatine Ok nonna Sei davvero tutta matta E poi Non sono un Martin Ti ricordi Tuo marito era un Robert Tuo figlio di cognome Indovina Robert E io indovina Nonna Oh sono un Robert Nonna un Robert Non un Martin Urlò Sam Tra impazienza E lorita Oh quante storie Intanto tenendoti impegnato A litigare Abbiamo terminato Il nostro giardinaggio Hai visto che spettacolo Figliolo Si nonna Davvero bello Mi sono meritato La tua limonata Certo Entriamo furbetto Anche se il sole è debole Ho la pelle così chiara Che mi brucio subito Sarà la gioventù Che avanza Era sempre così Fra loro Continua a discutere Ma Sam adorava sua nonna Aveva trascorso L'infanzia con lei E quella casa Era il suo luogo sicuro Dove rifugiarsi In caso di tempesta E la nonna Questo Lo sapeva bene Quindi Sam Raccontami un po' Cosa ti è successo Disse la donna Seduta Comodamente In salotto Sorseggiato La bevanda fresca E come sai Che devo raccontarti Qualcosa Ah già Dimenticavo Sei una strega buona Amava stuzzicarla E continuare a giocare A battipeccarsi Sam So da quando sei entrato Che devi raccontarmi Qualcosa che ti turba Primo Perché non serve Essere una strega Basta guardare Quei tuoi occhi affranti E secondo Perché sono una strega Scoppiarono a ridere insieme Il ragazzo Pensò che sua nonna Quando rideva Era davvero bella Sembrava fosse illuminata Sam si incubì Pensando Al racconto Che doveva sforzarsi Di fare Ma si fece coraggio L'altro giorno A scuola Dopo l'allenamento Mi sono fermato A parlare con il coach Ti ricordo Il signor Brown Avevo saputo Avevo saputo da mio padre Che sua moglie Si era sentita poco bene E volevo solo chiedergli Se fosse guarita Beh non è questo il punto Sono arrivato Nello spogliatoio Dopo i miei compagni E quando sono entrato Gli ho sentiti parlare di me Allora Continuo Perché ti sei fermato? Vuoi dell'altra limonata? No nonna Il fatto è che hanno detto Che sono strano Che parlo più con gli adulti Che con i miei coetani E che sono miei amici Solo perché papà È il preste della scuola Di Union Oh mi dispiace Sam Ma tu non devi dimostrare nulla a loro Tu sei come sei Sei un ragazzo speciale Gentile e intelligente Forse stai guardando Nella direzione sbagliata In che senso Nonna chiese Sam Guardandosi intorno Penso semplicemente Che chi non ti apprezza Non sia davvero un tuo amico È stata una fortuna Averli sentiti parlare Perché ora puoi cercare Dei veri amici Ma nonna Io vorrei che loro Cambiassero idea su di me Perché tesoro Tu sei così Hanno detto la verità Tu parli volentieri Con gli adulti Perché non ti intimorisce L'età anagrafica Tu vedi oltre Ascolta il cuore E ti interessi realmente a loro Tu devi semplicemente Trovare persone Che ti siano affini Come te insomma Sam non sembrava Del tutto convinto Dal discorso della nonna Ma rimase pensieroso Per il restante tempo In fondo Anche se non gli piaceva ammetterlo Lei aveva sempre ragione Doveva solo capire Come poter mettere In pratica I suoi consigli E siamo arrivati A pagina 11 Di questo libro Semmel multiposco Fatemi sapere sotto Nei commenti ragazzi Se vi piace la lettura Questo genere di lettura Se vi piace sentire video In puro whispering O intense whispering Perché Non faccio quasi mai Video dedicati Alla lettura Eppure si tratta Comunque Di video smr Perché magari So che a molti Piacciono proprio I trigger Fatti con gli oggetti Ma anche la voce È rilassante Non dimentichiamo C'è lo che sia Un video chiacchiericcio O un video di lettura Che lo trovo Ancora più bello Come vi dicevo all'inizio Questo video È stato sponsorizzato Dalla scrittrice Sara Fosciano Che tra l'altro È anche una mia amica Che conosco Da ben tre anni Vi invito a seguirla Se vi va su youtube Qui Il suo canale Lazzafamily Tanto vi linko tutto Sotto in infobox Ma soprattutto Vi invito Se vi fa piacere Ad acquistare I suoi libri Perché Sono veramente Meravigliosi La trovo una scrittrice In gamba È meritevole Noi ci rivediamo Al prossimo video E Buonanotte magica A tutti